Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora quest'oggi puntata particolarmente importante Intanto vi segnalo un Fatah Vissaku capocannoniere della Serie A con 11 gol Subito dopo Farias, questo per far capire la stagione che sta facendo Fatah Vissaku quest'anno Comunque ragazzi che cosa faremo quest'oggi? Affronteremo innanzitutto il Torino Che è probabilmente la gara più tranquilla, almeno sulla carta, fra le tre E poi scontro decisivo nell'ultima giornata di Europa League contro il Rapid Vienna Diciamo che ancora tutto in bilico, bisognerebbe vincere per spazzare via qualsiasi dubbio E poi sfida alla Roma che è momentaneamente prima in classifica ma con una partita in più Quindi è sicuramente uno scontro scudetto se così lo vogliamo definire Ma come al solito raga prima di incominciare a giocare vi invito a lasciare un mi piace Iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi E anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio, perplessità E a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è in descrizione E anche a sostenere e supportare il canale tramite una donazione grazie al link che si trova ovviamente in descrizione Detto ciò ragazzi, senza indugio andiamo in campo su Segugio contro il Torino Allora, formazione un po' rimaneggiata, non voglio commettere gli stessi errori Quindi mix for titolare e sostituti, visto che abbiamo tre gare nel giro di una settimana E quindi Okoye fra i pali, poi Udoge, Luqueba, Vitic e Livramento Perrone, Saewald, Guler con la fascia da capitano a braccio E in attacco Nusa, Farias e Romero Il resto della squadra in Europa League E probabilmente questa stessa formazione giocherà anche con la Roma Okoye ragazzi, siamo subito in aria l'appoggio semplice semplice di Romero Che qui, diciamo, ha sbagliato un gol già fatto Il Torino ci ha concesso tanto in aria addirittura Quindi si doveva approfittare, bisognava segnare qui Comunque, calcio d'angolo, Guler va al centro Luqueba anticipato, c'è Nusa che la mette a terra Qualcuno che calci, vi prego? Okoye ragazzi, Guler appoggia dentro, non è male Faria si attacco, bellissimo Guler la prima di son giro, niente da fare Arda Guler, possiamo avanzare Guler, buona per Farias che deve mettersi in prova Forza Facundo, corri, 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 corri E caccia col destro, e non sbaglio, 1-0 Arriva il gol del vantaggio qui in trasferta a Torino Dai ragazzi, togliamoci in fretta questa partita da mezzo Perché così abbiamo altre due sfide molto più golose e succulente Comunque ragazzi, ovviamente, non cantiamo vittoria troppo presto È semplicemente un gol, però qui bravissimo Facundo Che adesso sì, arriva anche lui a 11 gol Ed è il capocannoniere insieme a Fatavu Quindi l'obiettivo ovviamente è renderlo capocannoniere Essendo lui il centravanti Però se Fatavu riesce a fare meglio di un centravanti Vuol dire che è troppo forte lui E non è questione degli attaccanti Ma Occio però la risposta qui del Torino con Ocoe Che diciamo è un attimo dubbioso Non sapeva se prenderlo O no, ma alla fine l'ha presa E Occio che si riparte Perrone L'appoggio semplice verso Farias Che calcia direttamente dal limite dell'area Ma pare il portiere Occio Nusa Possiamo ancora andare Antonio Nusa Aspetti il momento giusto per seguire Farias Facundo Facundo decide di appoggiarla a Luca Romero Per regalargli il gol del 2-0 Bene così ragazzi Segna come al solito il talentino Che devo dire ragazzi Averlo come sostituto è veramente un lusso Ma occhio alla risposta del Torino Attenzione il tiro potente di Caramose Non ho visto male Ma Occio non si fa sorprendere Ma attenzione ancora Occio che ci salva Il Torino sta facendo di tutto per tornare in partita Ma Occio ha deciso che forse non vuole subire Gol Vitic qui spazza Dai ragazzi facciamo attenzione Occio con questi passaggi Dai ragazzi resistiamo a sto forcing E poi punto Stiamo tranquilli Bravo Koi E occhio Antonio Nusa Nusa avanza Nusa Li tocco verso Facundo Farias L'appoggio ancora Dentro Ardaculer qui Ha capito tutto il portiere Che riesce addirittura a bloccare questo pallone Occio qui Si fa superare dalla palla Castello e poi Okoye Compia un altro miracoloso intervento E ok ragazzi alla fine riusciamo a resistere al forcing del Torino Soprattutto e anzi solamente forse Grazie ad Okoye che per il momento sta facendo una partita Quasi da migliore in campo E occhio possiamo avanzare Facundo Farias Buone in avanti verso Antonio Nusa Nusa Il destro di Nusa Respinto Gula in rapporta vuota Riesce ad essere preciso E non sbaglia l'angolo Farias 4-0 Arriva il punto esclamativo sulla partita Adesso ragazzi il Torino Difficilmente ha qualche speranza di tornare in partita Comunque riguardiamo questo bel mancino di Farias Di prima intenzione a scavalcare il portiere Quintuplo cambio per noi Dentro Cup Miners Scott Escharavi Shashua E Fatavisaku Occhio ragazzi possiamo andare Shashua Buona per Fatavisaku Prova a servire dentro il farone Escharavi Che l'appoggia in porta semplice semplice 5-0 Manita Definitiva Ai danni del Torino Che è un'altra squadra che effettivamente Almeno sulla carta andava abbattuta In questo modo E queste partite mi fanno capire che siamo cresciuti tanto L'anno scorso non avremmo avuto Questa semplicità E riscontrare questa facilità di vittoria Contro queste squadre della metà classifica È sicuramente una grande soddisfazione E ok ragazzi arriva anche il fischio finale Torino ci ha provato in tutti i modi A segnare a meno un gol Ma questo gioco ha completamente abbassato la sala cinesca Quindi ragazzi grandissima vittoria Ma soprattutto anche grazie al nostro portiere Che non è mai una cosa scontata E ok ragazzi ci siamo Il momento è arrivato Genova contro Rapid Vienna Riepiloghiamo un attimo la situazione in classifica Allora per noi è semplicissimo Bisogna vincere E in caso di 3 punti Siamo certi anche Di passare da primi del girone Poi In caso di Nostra non vittoria Ci sono tante variabili Allora se pareggiamo Comunque siamo a posto Perché comunque andiamo a 11 punti Lo Sporting Lo Sporting Se vincesse contro La Duke Sparta Andrebbe a 10 E quindi noi siamo Comunque primi Però in caso di sconfitta Penso che cambierebbe tutto Perché in caso di sconfitta C'è la possibilità di avere 3 squadre A 10 punti E poi a quel punto Sinceramente Non so come funziona Quindi ragazzi Nel dubbio Bisogna non perdere L'uscirema Non perdere Conto i Rapid Vienna Una squadra Che abbiamo battuto Per 5-1 All'andata Qualche mese fa Quindi ragazzi Mi raccomando Cerchiamo di dare il massimo Con questa formazione Ovvero Sommer Incapie Vitis Calvini Rensh Cup Miners Matasso Scott E Sharawi Shashua E Fatavu Isakou Ciao ragazzi Che questi già vanno a mille Allora Attenzione Savic Subito opportunità Per i nostri avversari Ragazzi Che siamo anche in casa Sommer Deve fare subito qui Un intervento importante Non era difficilissimo Ma sicuramente Non semplice Comunque Occhio al corner Incapie libera Già ci stanno Tartassando di tiri Sommer Parancola Nientra ragazzi Già ci hanno chiuso Nella nostra area di rigore Sarà una partita Veramente lunga ragazzi Ma vediamo un po' Se i nostri attaccano Pallino avanti Verso Fatavis Vediamo un po' Che succede Fatavu È sul fondo Deve mettere la forte Tesa dentro Shashua La liscia La cicca Non ho capito Che ha combinato Ma subito Chance anche per noi E occhio Shashua Fa correre Il faraone Saravi 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 L'appoggio Dentro Verso Fatavis Che non può sbagliare Che non può sbagliare 1-0 La palla Fortunatamente è passata Il passaggio Del Shashua Sembrava abbastanza Debole Ma alla fine Era precisissimo Segna Fatavu Issaku Che sta continuando A segnare Gol su gol Comunque ragazzi Nonostante L'inizio Sprombattuto Degli austriaci Siamo riusciti A sbloccarla Noi per primi E oggi Ancora Fatavis Sagubiti Ancora il faraone Quest'altra parte Dai che lo schema È sempre funzionante Saravi Appoggio Ancora Esattamente lo stesso gol Fatto 3 minuti fa Segna Stavolta però Samuel Shashua Ma l'assist È sempre del faraone Bene così ragazzi Evidentemente Soffrono Questa combinazione Sugli esterni Effettivamente Non hanno la difesa Così incredibile Come giusto che sia Siamo onesti Quindi Segna Samuel Shashua 2-0 Bene così ragazzi Se vinciamo Non ci interessa Che cosa fanno Nell'altra partita L'importante È solamente Questa partita Diciamo Potrebbe essere importante Per il Rapid Ma ormai Penso che passeremo Sinceramente Noi e lo Sporting Come Era effettivamente Da pronostico Era da decidere In un certo senso Solamente Primi O secondi Però ragazzi Non facciamo questi discorsi La partita è lunghissima Questi qua Ci possono fare 4-5 gol In 3 secondi Faccio ragazzi Shashua Buona l'appoggio Verso Fatavisagù Per il punto esclamativo Ma ritarda Estremamente troppo La conclusione Effettivamente Avevo detto Di calciare Molto prima Spiegatemi Perché non ha calciato Occhio qui Savic è passato Se puntualmente Subisco il gol Dopo che Fatavisagù Mi ha calciato 3 ore dopo Impazzisco Occhio Ecco qui ragazzi Sembrano coincidenze Ma io non credo Che lo siano Che poi subiamo Sempre questi gol Nei momenti peggiori Perché Proprio allo scadere Del primo tempo Quando può dare Più forza Agli avversari E meno a noi Quindi adesso sicuramente Sarà Una partita Per nulla Semplice Nel secondo tempo Comunque Per la cronaca L'intervallo Clamorosamente Aeduk Spalato In vantaggio 1-0 Contro lo Sporting Quindi è veramente Tutto aperto Come detto ragazzi Se noi vinciamo Siamo a posto Poi Se la giocano Fra di loro Occhio ragazzi Possiamo andare Il farone Sciaravi A campo Da che sono messi malissimo Il farone Sciaravi La deve passare Tre ore Per fare il passaggio Esattamente Come il tiro Anche il passaggio È stato Clamorosamente Ritardato Ma qui Occhio a Scott C'è ancora Il farone Sciaravi Che ci prova Subito Dopo due assist Vorrebbe trovare Il gol Anche lui Ma occhio Che intanto Pareggia Anche lo Sporting Lisbona E trova quasi Il gol del pareggio Anche il Rapid Vien Attenzione ragazzi Che questi qua Sono ancora vivi Anzi Vivissimi Palla dentro Palla dentro 2-2 Gol in rovesciata Subito da Rapid Vien Con Sommer Che dorme Fatemi rivedere Qui Sommer Poteva fare Qualcosina in più No Sommer Semplicemente Non ha capito nulla Occhio ancora Rapid Che Ragazzi Io rido Perché è assurdo Ragazzi Rapid Vien Una squadra Fortissima Ci hanno ribaltati Veramente In un batter d'occhio Ve l'avevo detto Siamo sotto Adesso ragazzi No c'è da capire Come sarebbe La situazione Perché noi comunque Abbiamo questi 10 punti Che sembrano Buoni Però Buo ragazzi Io rido Perché rido tantissimo Perché è assurdo Che le prime Tre partite Del girone Le abbiamo vinte Con una semplicità assurda Addirittura 15 gol fatti In tre partite Solamente Due subiti E adesso Queste tre partite Del girone Di ritorno Tra virgolette Sono un qualcosa Di impossibile Questo vi fa capire Che FIFA È un qualcosa Di imbarazzante Secondo me Perché non è possibile Che la difficoltà Sia così strana Sia così diversa Comunque ragazzi Provo tre sostituzioni Dentro Farias Goulet E Saivald A sto punto Come abbiamo fatto Con lo Sporting Cerchiamo a meno Di pareggiare Questa partita Così Arriviamo a 11 punti E siamo comunque Certi Del primo posto Qui subito Il faraone Che ci trova Il Sharawi Il Sharawi Il Sharawi Meno male Grazie a faraone Arriva subito Il gol del pareggio 3 a 3 Meno male Ragazzi Veramente Kick off Che ci voleva Come l'acqua In un deserto E clamorosamente Sembra essersi Ribartata la situazione In campionato Stiamo abbastanza Passeggiando Infatti siamo primi Abbastanza nonchalance Invece in Europa League Ogni minuto Sembra il minuto Più lungo Della nostra vita E qui un altro Miracolo di Somm Cioè ragazzi È tutto vero Quello che state Guardando E si riparte Arda Goulet In avanti Per Facundo Farias Che è velocissimo E la tiene Farias Il mancino di Farias Che ovviamente È un po' Ritardato Questo tiro Ovviamente Comunque siamo sempre In avanti Goulet Sbaglio il tocco Ma c'è ragazzi Che c'è Addirittura Addirittura Mattia Viti Che trova Il gol dell'anno 4-3 Il difensore centrale Una punizione A centro campo A caso Battuto corto C'era solamente Viti sul pallone Ho detto Vabbè perché non provarci Ed è successo Quello che è successo Veramente Gol pazzesco La parte Di Mattia Viti Che a sto punto Mi viene da pensare Che si posiziona Che si posiziona Apposta lì Perché evidentemente Ha un'ottima conclusione Da foriare Perché Non è il primo gol Che realizza in questo modo Ma questo qui è sicuramente Quello più bello Quello più complicato E clamorosamente Contro sorpasso Ai danni De rapidi vienna Adesso la situazione È tornata ad essere Positiva per noi E occhio che c'è ancora spazio E Sharabi Allarga subito Verso Fatavu Dai chiudiamola Stta partita Fatavu Fatavu Il tocco Non si creda ragazzi Perché FIFA fa ste cose Ci sono partite Che Questi passaggi Che io Faccio sempre Allo stesso modo Vengono pure Con gli occhi chiusi Invece Queste partite Dove è impossibile I tiri Sono ritardati I passaggi Li fanno tre quarti D'ora dopo Cioè È veramente Strano È quasi Inspiegabile Qui perché Fatavu Non ha continuato Se c'era Quello avanti È fallo È ostruzione Arbitro Qui ragazzi Rensh Che cosa ha fatto Occio che possiamo andare Farias Vede l'inserimento Del farone Che deve Calciare Di prima Alla fine Ne esce un buon Calcio d'angolo Con Copminers Che va a battere Vediamo un po' Col suo mancino Verso Rensh Anticipato Cioè Sei guarda che Mette a terra Va a seguire Addirittura Giorgio Scalvini Giustamente Ha segnato viti Non potrebbe segnare Anche Scalvini Comunque Proprio Mattia Viti L'appoggio Per Facundo Farias Nei ragazzi Cerchiamo di far scorrere Anche i secondi Ma qui Farias Combina il pasticcio Attenzione Che siamo 2 a 2 Fra Hiduk E Sporting Sicuramente Un buon punteggio Sia per noi Che per i Rapid In realtà È un punto in più Che dovrebbe favorire Attualmente Lo Sporting Perché appunto Il Rapid Resterebbe a 7 punti Quindi Noi passiamo Con 13 punti E lo Sporting Con 8 Se non ho fatto male I conti Oppure con 7 Comunque Vabbè ragazzi Pensiamo a noi Fischio finale Meno male Molta più difficoltà Del previsto Ma effettivamente Era prevedibile Ne è uscita fuori Una grande partita Molto bella Soprattutto per un occhio Diciamo Oggettivo In un certo senso E la decide Un euro goal Di Mattia Viti E quindi ragazzi Dando un'occhiata Effettivamente Proprio come avevo detto io Noi passiamo Come primi Con 13 punti Sporting Con 8 Rapid win Retrocesso In conference Farà il playoff Di conference Ajax Palato Eliminato Quindi questo vuol dire Che da primi Del girone Beccheremo Delle squadre Che passeranno Grazie ai playoff Quindi andranno ai playoff Ajax Sporting Appunto Newcastle Sarisburgo Celtic Strasburgo Tramzospor E Mainz Che si andranno a scontrare Con le terze di Champions Che sono Porto Fenerbace Barcellona Ecco qua Ti pareva Chelsea E so due Stiamo a Bucharest Borussia Stato un quarto Addirittura Aston Villa Di Aude Simpatica Sta cosa La Roma Poi abbiamo La Dinamo Kiev Quindi Retrocedono In Europa League Due potenze Mondiali Come Barcellona E Chelsea Quindi sicuramente Quando ci sarà Sarà un sorteggio Non semplice Per noi Però Facendo il primo posto Ci siamo tolti Dal calendario Due partite Che potrebbero essere Pesanti Di playoff Appunto Per passare Agli ottavi Quindi sicuramente Possiamo ritenerci Più che soddisfatti E adesso ragazzi Un'altra battaglia In vista Genova-Roma Prima contro Seconda Anche se momentaneamente Abbiamo la Juventus A secondo posto Perché ha giocato Una partita in più Ma sta di fatto Che la situazione È proprio Questa qui Che appunto Noi e Roma A parità di giornate Le squadre Che sono prima E seconda Comunque È una partita Molto importante Cerchiamo di portare A casa i tre punti Per dare anche Una stoccata Al campionato Però sicuramente Non sarà semplice La Roma Ha venduto Belotti Ma si è presa Morata Che sicuramente È andato A migliorarsi In quel reparto Comunque Hanno addirittura Alaba Verratti A centrocampo Con E Hanno veramente Una grande squadra Effettivamente Per essere Così in alto In classifica Doveva esserci un motivo Noi invece Scenderemo in campo Esattamente Con la stessa squadra Che ha battuto 5 a 0 Il Torino Quindi speriamo Che porti bene Faccio subito Qui in usa Che serve Alla grande Facundo Farias Facundo subito Col destro Spacca la porta E sblocca immediatamente La sfida 1 a 0 Segna Il centro avanti E chi se no Facundo Farias 1 a 0 Neanche 5 minuti E già Possiamo Festeggiare Occhio qui Primo tiro In porta Della Roma Ci prova Alvaro Morata Maoccoi è bravo A difendere il suo palo Maocchio al corner Battuto del giallo-rossi C'è Paolo Di Bala Perrone non lo molla Palla per Verratti Dentro ancora Per Alvaro Morata Due volte Riesce A salvarsi La nostra retroguardia C'è ancora Nicolò Zaniolo Il tiro Da parte Del numero 18 Che dovrebbe essere Gavi infatti Maoccoi Si va a trovare Ancora attento Attenzione che la Roma Sta rispondendo immediatamente Giaccia ragazzi Udoge Adesso un po' di campo Può prendere Solo Udoge Forza Udoge Ragazzi Questa qui sarà Una bellissima partita In contropiede Palla dietro Romero Perché non mi hai calciato Di prima Perché non mi hai calciato Di prima Potevi Semplicemente appoggiarla Qui veramente Un gol mangiato Avevamo fatto Veramente tutto giusto Giaccia guarda Guller bravissima A resistere Romero ci riprova E stavolta È molto più pericoloso Arriva Il grande intervento Da parte di Shakir Ma occhio ragazzi Qui al miracolo Miracolo sensazionale Da parte di Udoge Molto simile A quello che abbiamo Provato a fare noi Con Romero Ma stavolta È arrivato Il miracolo Del nostro portiere Meno male ragazzi Il tiro era anche centrale Siamo riusciti Veramente a salvarci Per il miracolo Ma il gol Della Roma Direi che è nell'aria Ormai ci manca poco Perciò bisognerebbe Provare A trovare Il gol 2-0 Occhio ancora Dentro Coglie La tiene Due volte Una rispinta Il tiro Ancoro Coglie Che si salva Su Verratti Con la numero 7 Incredibile ragazzi Che cosa sta facendo Il nostro portiere Quest'oggi Però effettivamente Questa partita Sembra essere Una sfida Scudetto Una partita Molto complicata Per noi Stiamo soffrendo Tanto Ma allo stesso tempo Stiamo resistendo E ripartendo In contropiede Alla perfezione Ancora una volta Qui possiamo provarci Ma Conate è bravo A difendere E oggi guarda Guler Possiamo avanzare In avanti Sempre per Facundo 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 Vai dentro Vai dentro Non ci credo Qui Alaba Che cosa ha preso C'era il gol Facile facile Per Romero Ma Alaba Ha fatto veramente Il miracolo Evidentemente Aveva capito Comunque occhio Come al solito Al calcio d'angolo Luque Ba C'è ancora una deviazione Palla nostra Sto scherzando No qui ragazzi E questo è fallo Però sul difensore L'attaccante Non può intervenire così Pareggio della Roma Qui era un fallo Direi abbastanza Evidente Qui Proprio Ha salito Il nostro Luque Ba Morata Avrà toccato Anche il pallone Ma è entrato Veramente In modo troppo Aggressivo Questo qui 99% dei casi Nella vita vera E fallo E purtroppo ragazzi La fine gol del pareggio Arriva nel modo peggiore possibile Ma attenzione però Subito Fa Rias Che non ci sta E prova a riportarci Subito in vantaggio Sicuramente pareggio Più che meritato Ma subirli in questo modo Sicuramente fa male Classico passaggio corto Del portiere Per il difensore Morata Letteralmente Ha salito Luque Ba Che giustamente Non ha potuto far nulla Per difendersi Siamo stati ingeni noi Ma allo stesso tempo Quello era fallo Comunque termina qui Primo tempo Forse punteggio più giusto 1-1 E sicuramente Nel secondo tempo Ne vedremo delle belle Moccia ragazzi Calcio d'angolo Per la Roma Occhio verticavi Oh 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 E' uscito l'arbitro E' uscito Era fuori Era fuori Quello era fuori Arriva la doppietta Di Morata Ma un'altra ingenuità Dell'arbitro Quella palla Era chiaramente fuori Scusatemi eh Sono stupido io Ragazzi Ragazzi Ma la palla è uscita Ragazzi E' fuori E' guardate E' fuori Ragazzi Ma questo Ma non mi sembra Che sia rimasto Tipo il ciuffettino d'erba No ragazzi Questa qui E' sicuramente Più fuori che dentro Che vi devo dire raga Prima il fallo Sull'1-1 Adesso questo Sicuramente ragazzi E' un punteggio Che ci può anche stare Perché Con questo qui I giardari Si hanno fatto Più di 15 tiri Quindi ci può stare Stanno giocando meglio Sono superiori In questa partita Però subire due gol In questo modo Su un gioco Per un fallo non fischiato E per una pallo non fischiata fuori Sicuramente dà tanto fastidio Perché teoricamente Gioco Quale macchina Macchina Non fa questi errori Meccanici Comunque ragazzi Che vi devo dire Questo è FIFA Quest'anno Vedete Mi manca pure Mi manca addirittura il fiato Per sfottere FIFA Per essere Carino Comunque ragazzi Da partire ancora lungo Adesso è il nostro momento Antonio Lusa Appoggiala subito No ragazzi Dentro Per Luca Romero E ci mangiamo L'ennesimo gol Per la solita Per la solita Dornita in questi casi Disattenzione Non so Come definirla Perché non si possono Sbagliare questi passaggini Facili facili Occhio di testa C'è ancora Farias Che può girarsi L'appoggio Il sinistro di Romero Arriva la parata Ancora di Shakir Nusa va in pressing Ma si salvano i giallorossi Raga Prova a fare dei cambi Nonostante i giocatori stanchi Prova a mettere Matazo e Scott E anche Shashua Che sono effettivamente Abbastanza riposati E in più Esce Rawi Visto che è l'ex E poi anche Fatahui Sagu al posto Di Romero Nella speranza Che accade qualcosa E ocio Shashua FIFA mio Caro 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 FIFA mio Livramento Perché non va sulla palla Io più che indirizzarlo E correre Che posso fare Poi se me lo blocchi Se me lo rallenti In questo modo FIFA mio Non posso farci nulla Comunque ragazzi Ripeto Peccato Perché la Roma Ha meritato Questa vittoria Come detto prima Proprio a mani bassissime Forse doveva fare Anche più gol Però tutti i tre gol Soprattutto i primi due Sono veramente Abberranti E sono tre gol Buggati Scriptati E questo È preoccupante Ragazzi Soprattutto Neanche il fallo Ma la palla Lì è riuscita E occhio ragazzi Vediamo un po' Se riusciamo a toglierci Lo sfizio Di fare almeno un gol No Perché Scott Non riesce neanche A segnare questi gol qui E vabbè ragazzi Questa sconfitta Sicuramente ci fa capire Che forse Forse per lo scudetto È ancora un po' Troppo presto Però ragazzi Siamo comunque Sempre lì Io penso che Più che altro Questa partita Ci fa capire Che ci sono ancora Squadre più forti Rispetto a noi Il che è sicuramente Ovvio Perché era ovvio Appunto che era così Però Io allo stesso tempo Proprio per quanto riguarda Il campionato Io non punterei Sugli scontri Diretti in sé Ma più che altro Conoscendo sempre FIFA Sulle partite Che potrebbero perdere Le squadre Durante la stagione Perché come abbiamo visto L'anno scorso Con l'Inter Che ha perso Non so quanti punti Potrebbe succedere La stessa cosa Anche con le squadre Prima in classifica Perché se vi ricordate bene Gli anni scorsi Su FIFA 22 Molti campionati L'abbiamo vinti Proprio perché Le altre squadre Si sono suicidate Sportivamente parlando Quindi Non mi stupirei Se fosse lo stesso Anche quest'anno E quindi ragazzi Direi che per oggi Possiamo assolutamente Fermarci qua Puntata bella Pesante Nella prossima Affronteremo Come prima partita La Fiorentina Poi il Milan E arriveremo Già nel 2025 Dove Penso con ogni probabilità Vedremo anche La partita con la Lazio Perché Sta arrivando Il mercato di gennaio Ma mercato di gennaio Che teoricamente Per noi Dovrebbe essere Abbastanza Privo di emozioni Perché sicuramente In entrata Almeno sulla carta Non dobbiamo acquistare Nessuno I miei piani Sono di concludere Questa stagione Con questa squadra Con questi 11 Con questi 22 Anzi Poi ovviamente Se arriva qualche offerta La prenderemo Come al solito In considerazione E Visto come è il gioco Quest'anno Mi aspetto Delle offerte Sinceramente Quindi ragazzi Non posso far altro Che fermarmi qua Per oggi Però prima di chiudere Aspettate un attimo La classifica Che ci vede Adesso terzi A 38 punti A pari merito Con la Juventus Che è sicuramente Una bella soddisfazione A parte tutto Ma c'è l'Inter Con una partita in più La Roma è sempre In cima Adesso il primo In classifica Quindi raga È ancora tutto in ballo Il nostro obiettivo Sono i primi 4 post I primi I primi 4 post Ce l'ho fatta E noi pensiamo a quelli Poi per il resto È tutto in più Quindi ragazzi Io per l'appunto Mi fermo qua Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivetevi al canale A seguirmi sulla pagina Instagram E a supportare il canale Tramite una donazione Noi ci vediamo Alla prossima E ciao a tutti Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima